Seconda guerra d'indipendenza. Ecco, noi abbiamo fatto gli ultimi incontri sul 1948 e poi sul proprio decennio che segue il 1948 e che ci porta quindi alla seconda guerra d'indipendenza. Ricorderemo almeno che la prima guerra d'indipendenza si è combattuta tra il 1948 e il 1949 e ha visto i piemontesi all'inizio avere anche buone speranze di vincere quella guerra ma poi alla fine essere sconfitti da Radezchi e dagli austriaci. Comunque, anche se sono stati sconfitti, i piemontesi sotto il loro nuovo re Vittorio Emanuele II che succede a Carlo Alberto che abdica e qualche mese dopo va in esilio e morirà incominciano a progettare una vendetta, una rivalsa contro gli austriaci. Continuano a essere desiderosi di cacciare gli austriaci dalle province italiane e non sono stati minimamente fermati dalla sconfitta nella prima guerra d'indipendenza però capiscono che non è possibile sconfiggerli da soli. Il potente impero austriaco è talmente vasto e è in grado anche di assoldare cioè di avere a ruolare soldati svariate regioni e zone che potrebbero sempre mettere in difficoltà l'esercito piemontese quantomeno dal punto di vista numerico. E così nel 1856 abbiamo visto la volta scorsa che Cavour fece inviare truppe a combattere in Crimea alleate di Gran Bretagna e di Francia proprio per poter partecipare al congresso di Parigi di quello stesso anno e quindi avere un voce in capitolo in Europa poter portare anche la questione italiana in Europa. in particolar modo poi negli ultimi anni di quel decennio Cavour si avvicina molto a Napoleone III in realtà gli italiani non avevano una buona opinione di Napoleone III qui per esempio potete vedere una vignetta satirica fino al 1859 infatti la satira piemontese ma in generale anche potremmo dire la satira risorgimentale vedeva in Napoleone III un freno al processo di unità nazionale qui per esempio c'è una specie di parodia quindi con una parodia dei promessi sposi Don Abbondio diventa Cavour Renzo è il Piemonte Lucia l'Italia mentre Don Rodrigo è Napoleone e insomma vedete che sta bisbigliando qualcosa Don Abbondio proprio riguardo a Napoleone III sarebbe lui a voler impedire questo sposalizio tra il Piemonte e l'Italia cioè in buona sostanza sarebbe lui a voler impedire l'unificazione italiana effettivamente Napoleone III aveva sedato la secessione della Repubblica Romana nel 1849 e quindi si era messo a capo dei conservatori tradizionalisti papalini e quindi sicuramente era in viso a molte formazioni politiche italiane risorgimentali soprattutto poi i mazziniani, i democratici, i repubblicani in modo particolare Ah ecco sì sicuramente sarebbe il caso di fare una diretta anche su Benedetto XVI ci stiamo pensando però ritornando a noi alla serata di oggi sulla seconda guerra di indipendenza eravamo arrivati al punto in cui i rapporti tra Italia e Francia non erano così positivi ci fu un attentato cioè uno di questi rivoluzionari italiani attento alla vita di Napoleone III e Cavour prese la palla al balzo cioè cercò di convincere l'imperatore Napoleone III che questa era proprio la dimostrazione che occorreva risolvere la questione italiana cioè risolverà ad esempio nel senso moderato, liberale altrimenti avrebbero preso la mano i mazziniani una cosa importante da dire è questa che un anno prima o due anni prima al massimo l'ultimo moto mazziniano era finito tragicamente con un fallimento totale era la spedizione di Sapri di Carlo Pisacane anche di questo abbiamo parlato la volta scorsa però è chiaro che i democratici, i mazziniani eccetera avrebbero rialzato la mano se non avressero preso le redini di questo processo risorgimentale i moderati liberali tra l'altro Cavour comunque non vuole escludere del tutto i rivoluzionari anzi pensa di fare una sorta di unione italiana fra le posizioni, i partiti più moderati come il suo e quelli più progressisti è quello che si chiama il cosiddetto connubio cioè si verifica una unione di intenti per cui sempre comunque con la guida sapiente tra virgolette di Cavour questo processo di unificazione italiana avviene unendo le forze unendo le forze anche dei movimenti come quelli di Garibaldi che decisamente avevano un'origine politica diversa rispetto a Cavour ecco, le vicende che adesso andremo a spiegare quelle della seconda guerra di indipendenza in realtà sono vicende che sono rimaste nel nostro immaginario collettivo io ho in mente per esempio quando ero un ragazzino e passavo attraverso le vie di Milano e già avevo notato che queste vie spesso riportavano i nomi di alcuni dei protagonisti di questa seconda guerra di indipendenza come la via Mac Mahon e così insomma tantissimi altri luoghi come Palestro, Magenta, Corso Magenta sicuramente rimandavano appunto a questa grande impresa della seconda guerra di indipendenza pensate che ancora fino a pochi decenni fa in Piemonte era sviluppato un teatro dei Burattini che vedeva come protagonisti lo vedete magari in questa scena proprio Cavour e Napoleone III che dialogano e che prendono un accordo è il cosiddetto accordo di Plombier a Plombier diciamo che Cavour e Napoleone III progettano una Italia federale attenzione, non un'Italia unita, centrata ma un'Italia federale in cui i francesi avrebbero avuto un ruolo importante ad esempio Napoleone III pensava ad alcuni suoi familiari ricordate un po' la politica bonapartista spesso prevedeva questo che potessero essere a capo di alcune compagini ad esempio una compagine del centro Italia che comprendesse per esempio la Toscana e l'Emilia oppure che subentrassero ai Borboni che effettivamente nell'Italia meridionale ormai per tutta Europa erano diventati un po' lo zimbello e portatori di un modo di fare politica di governare decisamente stantio, superato quindi si era messo d'accordo Napoleone III con Cavour proprio per anche dividere in un certo senso l'Italia e concedere semmai una federazione una confederazione in cui comunque lo Stato della Chiesa avrebbe dovuto mantenere la sua autonomia la sua libertà e indipendenza questo era quello che aveva in mente Napoleone III Cavour tutto sommato aveva delle idee di questo genere lo stesso Cavour infatti non avrebbe mai pensato che nel giro di pochissimo tempo si sarebbe potuta unificare l'Italia e che il regno di Sardegna potesse estendersi anche a gran parte del centro Italia e a tutto praticamente il sud Italia non era neanche nelle sue mire nelle mire di Cavour quindi si trovava in sintonia con Napoleone III a Cavour interessava soprattutto vendicare la sconfitta della prima guerra di indipendenza e occupare la Lombardia e il Veneto il Lombardo Veneto che era in mano agli austriaci infatti l'accordo era questo cioè Napoleone III era d'accordo a fare in modo che se fossero stati provocati dagli austriaci però è assolutamente non iniziando loro la guerra i piemontesi avrebbero potuto nel caso di una vittoria in una guerra di indipendenza avrebbero potuto annettere la Lombardia e il Veneto stop! si fermava lì questo progetto che avevano Cavour e Napoleone III quando parlarono insieme quando sottoscrissero gli accordi di Plombier rimaneva poi anche quel desiderio da parte di Napoleone III di riprendersi Nizza e Savoia Nizza e Savoia non erano state francesi fino a Napoleone I poi Napoleone I li aveva rese francesi del resto comunque nella Savoia di Chambéry si parlava una lingua che sicuramente era più vicina al francese che non all'italiano per quanto riguarda Nizza la situazione era leggermente diversa a Nizza era nato anche Garibaldi per carità però ecco c'era un po' questo sogno da parte di Napoleone III aveva sottoscritto questi accordi di Plombier anche con l'idea di poter riprendersi di poter perché aveva delle mire espansionistiche come ogni Napoleone e come ogni imperatore che si rispetti aveva queste mire espansionistiche voleva creare una grande Francia quindi un po' veniva incontro ai suoi desideri questo accordo con Cavour un po' però lui intendeva ridimensionare la politica anche del regno di Sardegna non voleva che si ingrandisse più di tanto il regno di Sardegna comunque sottoscrisse questi accordi siamo nel gennaio di questo importantissimo 1859 quando si creano i presupposti effettivamente perché possa esserci questa guerra ma è necessario che ci sia un ultimatum una dichiarazione di guerra da parte dell'Austria non può dichiarare guerra il Piemonte e poi pretendere di essere supportato dai francesi ecco qui infatti la slide che vi avevo preparato su questo argomento Cavour ottiene l'alleanza della Francia per una guerra contro l'Austria ma di carattere difensivo cioè Napoleone III promette di venire in soccorso del Piemonte solo ed esclusivamente se fosse stata l'Austria a provocare la guerra a dichiarare guerra Napoleone III di Francia si servì di questa guerra contro l'Austria per tentare di aumentare la sua influenza in Italia non solo a mettere inizia di Savoia ma come vi stavo spiegando prima anche con l'idea magari di piazzare qualche suo parente a capo di qualche stato di questa neonata ipotetica federazione di stati italiani il ministro degli esteri austriaco Karl Buol si illusa di ottenere durante la guerra l'appoggio militare della Prussia che cosa succede infatti in questi primi mesi del 1859 succede che i piemontesi ammassano le truppe al confine con il Lombardo Veneto quindi nei pressi soprattutto del Ticino cioè fanno capire di avere intenzione di fare la guerra cioè di essere pronti di essere preparati che si stavano preparando per una guerra gli austriaci abboccano cioè a dispetto di quanto si stava dicendo anche nelle varie diplomazie europee che magari c'era una questione italiana che si poteva risolverla a livello diplomatico gli austriaci invece abboccarono all'amo di Cavour e imposero verso l'aprile di quel 1859 imposero un ultimatum cioè dissero ai piemontesi avete cinque giorni di tempo per smantellare tutte queste truppe che avete accalcato ai confini con il nostro Lombardo Veneto quindi ai confini con l'impero austriaco perché altrimenti se non fate questo noi vi dichiareremo guerra Cavour si frega le mani perché è ben contento di questo è proprio questo quello che voleva cioè voleva che l'Austria dichiarasse guerra all'Italia per avere poi vi ricordate il supporto dei francesi quindi in quei cinque giorni non ci pensa minimamente di spostare le truppe se è possibile anzi ne aumenta ancora di truppe ai confini quindi allo scadere dell'ultimatum l'Austria dichiara guerra a quel punto Napoleone III promette di anzi arruola anche in Francia un'armée d'Italie cioè un esercito che ha esattamente lo stesso nome tra l'altro dell'esercito che aveva utilizzato lo zio Napoleone Bonaparte nelle sue campagne d'Italia alla volta dell'Italia anche se ci voleva un po' di tempo comunque per arrivarci quindi una volta dichiarata la guerra comunque un due settimanine di tempo ci volevano perché questo esercito francese raggiungesse l'Italia il senso dell'onore di Francesco Giuseppe fu una delle cause del precipitare della crisi verso la guerra Francesco Giuseppe era ancora troppo giovane a quell'epoca e anche lui cade in un certo senso nella rete di Cavour lui che non era così desideroso di fare la guerra con l'Italia però per il senso dell'onore portò avanti questo progetto politico dicevamo anche nel suo ministro degli esteri perché era convinto magari anche lui che poi la Prussia potesse venire sempre in aiuto in soccorso degli austriaci erano alleati austriaci e prussiani però comunque i prussiani prima di decidere di andare in soccorso non c'era un patto così esplicito degli austriaci ci pensarono un bel po' e ci pensarono talmente tanto che poi la guerra finì perché non durò tanto durò due mesi circa o non molto di più chiede Melvin ma a meno un ultimatum è mai stato rispettato nel corso della storia la maggior parte non sono mai stati rispettati ecco infatti è proprio così si fanno gli ultimatum perché si si deve fare durante una guerra perché si vuole mostrare la propria forza e si minaccia ma poi di fatto l'antagonista non ne tiene assolutamente conto anzi vuole dimostrare proprio la sua forza non attenendosi all'ultimatum dei nemici ecco allora in Italia soprattutto nel Lombardo Veneto non c'era più Radetzky perché ormai insomma era passato lui aveva già 82 anni ai tempi della prima guerra di indipendenza sarà anche morto nel frattempo non mi ricordo comunque adesso il comandante della seconda armata austriaca si chiamava Ferenc Giulai ecco probabilmente non si pronuncia così questo nome perché questo Ferenc Giulai è un ungherese e quindi come sappiamo la lingua ungherese è una delle più difficili per quanto riguarda la pronuncia quindi probabilmente non si pronunciava così ma per il popolo lui rimase sempre il generale Giulai e quindi già un nome che di per sé fa capire che non doveva essere una persona così autorevole e da temere anzi il nome Giulai per esempio in italiano richiama qualcosa come giullare quindi uno che ci fa ridere non ci fa non ci fa paura come invece Radetzky e infatti questo avvenne cioè questo comandante della seconda armata austriaca quando si dichiarò la guerra avrebbe dovuto subito varcare il Ticino poi lo fece per carità però non così con così celermente e poi avrebbe dovuto subito indirizzarsi verso Torino perché perché a seconda degli storici lui poteva contare su truppe che andavano dai 120.000 a minimo secondo alcuni storici fino a 140.000 uomini quindi più del doppio delle truppe dei piemontesi che erano più o meno di 60.000 uomini massimo 70.000 quindi aveva il doppio dei soldati rispetto ai piemontesi avrebbe potuto vincere stravincere la battaglia l'importante era arrivare a Torino per esempio prima dei francesi cioè prima che arrivassero le truppe dei francesi il supporto di Napoleone III perché questo sicuramente avrebbe cambiato gli equilibri della guerra ecco quindi che anche tutta l'opinione pubblica austriaca tutti gli strateghi suggerirono a questo comandante a questo generale Giulai di affrettarsi ma lui non lo fece un po' perché pioveva un po' perché era forse un po' tentennante come il nostro Carlo Alberto della prima guerra d'indipendenza cioè Giulai fa lo stesso errore che aveva fatto Carlo Alberto nella prima guerra d'indipendenza cioè non sfruttare l'abbrivio iniziale che sicuramente era a suo favore cioè così come era a favore di Carlo Alberto la questione delle la vittoria delle cinque giornate dei milanesi la cacciata di Radetzky e le tante città in rivolta per cui se avesse inseguito più celermente Radetzky avrebbe potuto sconfiggerlo cogliendo quindi il momento più adatto il momento migliore insomma per sconfiggere gli austriaci e non lo fece fu troppo lento così fu lentissimo anche Giulai nell'organizzare il suo esercito nel varcare il Ticino e nell'andare in Piemonte poi ci andò in Piemonte andò nel Vercellese ma poi arrivò il momento in cui giunsero i francesi fecero in tempo ad arrivare i francesi lui quindi un po' disorientato non sapeva bene che cosa fare alla fine incominciò a ripiegare e fu costretto a ripiegare sempre di più quando arrivarono i francesi quindi ci furono i primi veri scontri la prima battaglia per esempio fu la battaglia di Montebello la fanteria francese attacca il paese tenuto dagli austriaci perché Montebello si trova in Piemonte e gli austriaci avevano occupato abbiamo detto una parte del Piemonte ma ormai arrivano i francesi e sia per il numero dicevamo notevole dei soldati sia per le tecniche militari riuscirono a sconfiggerli più e più volte insieme con gli italiani però ecco qua come si presentava il regno austriaco del Lombardo Veneto durante la seconda guerra di indipendenza il teatro delle operazioni di questa guerra dobbiamo andare il più possibile verso sinistra per trovare appunto questi luoghi di queste prime battaglie una abbiamo detto è Montebello l'altra è la battaglia di palestro ecco ricordate che insomma avevo ricordato anche questo nome della battaglia di palestro poi gli ho dato probabilmente avevo sbagliato il nome di uno di questi quadri però ecco sono queste due le battaglie che avvengono per noi milanesi al di là del Ticino per i piemontesi al di qua del Ticino e quindi che già fanno capire che questa guerra probabilmente avrebbe preso una piega diversa rispetto alla prima guerra di indipendenza poi mano a mano andiamo a vedere le nostre altre fotografie cavalleggeri del reggimento Piemonte reale fotografati nel febbraio del 1859 sono i mesi dei preparativi della guerra e poi qui abbiamo una carica della cavalleria piemontese a Montebello ecco si tratta di una carica comunque che porta alla morte di molti soldati e lo stesso capo di questi cavalieri cioè il colonnello Tommaso Morelli di Popolo viene ferito a morte infatti una delle caratteristiche di questa seconda guerra di indipendenza che la distingue dalla prima guerra di indipendenza è la percentuale maggiore di soldati morti sul campo di battaglia rispetto al totale ecco la battaglia di palestro al termine di questa battaglia gli zuavi nominarono loro caporale d'onore Vittorio Emanuele II questo è un quadro di Luigi Norfini se sono riuscito a mettere il titolo giusto ai quadri spero di esserci riuscito infatti c'è da dire questo che a questa guerra anzitutto i due sovrani cioè l'imperatore di Francia Napoleone III e il re Vittorio Emanuele II re di Sardegna decidono di partecipare in prima persona e anche questo è un elemento che sprona maggiormente i soldati e infatti come abbiamo visto per esempio qua lo nominano caporale d'onore insomma riconoscono il fatto che questo loro re ha deciso di partecipare in prima persona alla guerra del resto Vittorio Emanuele II aveva avuto un'educazione militare come spesso avveniva presso i Savoia cioè seguivano le accademie come tutta la nobilità piemontese le accademie militari ed erano indirizzati alla carriera militare e non vedeva l'ora infatti Vittorio Emanuele II che comunque se noi leggiamo le sue biografie non era del tutto scevro di difetti e di vizi non vedeva l'ora di far vedere a tutti anche a Cavour per esempio che valeva qualcosa in realtà comunque i suoi difetti emersero anche durante questa seconda guerra di indipendenza per via di alcune sue decisioni non del tutto intelligenti e acute infatti Cavour non si fidava minimamente di lui noi abbiamo un'idea quasi stereotipata quasi idillica di questi grandi del risorgimento che erano perfettamente in sintonia l'uno con l'altro invece non si potevano sopportare ecco avvenne poi ormai già nel milanese quindi barcato il Ticino una delle battaglie più importanti di questa seconda guerra di indipendenza la battaglia di magenta cantavo io da ragazzo insieme a tutti i miei amici era un bel dì la battaglia di magenta che bel veder cavalcare cavaliere cavaliere al passo al trotto al galoppo anche questo è una mia piccola riminiscenza per dire quindi che certi episodi della seconda guerra di indipendenza sono stati mitizzati sono diventati quindi un patrimonio quasi popolare prima abbiamo visto addirittura il teatro dei burattini che è comune ecco qui un quadro che ci rappresenta la battaglia di magenta presso la stazione di magenta le truppe austriache in bianco sono sopraffatte dalla guardia francese a destra e dalle truppe di linea a sinistra ecco anche la guardia ricordate il nome guardia nazionale ad esempio quando abbiamo parlato della rivoluzione francese ecco era una parte importante dell'esercito e spesso questi imperatori questi napoleoni qua amavano essere dotarsi insomma di questi corpi militari speciali ecco i bersaglieri anche molto importanti questo corpo qui che come dice il nome in realtà erano caratterizzati proprio anzitutto dall'essere dei cecchini quindi da essere bravi a sparare contro un bersaglio però ecco è chiaro noi ricordiamo soprattutto per il fatto che corrono eccetera qui abbiamo un quadro un dipinto di Silvestro Lega non so se vi ricordate quando abbiamo studiato i macchiaioli l'abbiamo già detto più e più volte molti di questi macchiaioli o parteciparono direttamente in particolar modo a questa seconda guerra di indipendenza o ad altre guerre risorgimentali o comunque le celebrarono e le rappresentarono nei loro quadri perché una delle tematiche importanti della corrente artistica dei macchiaioli è proprio quella della rappresentazione dei moti risorgimentali poi ci sono altre tematiche che abbiamo visto di carattere sociale o contadino un altro quadro questa volta di un francese di Adolphe Yvonne che ci rappresenta le truppe francesi che conquistano Magenta e qui abbiamo quel maresciallo Patrice de Mc Mahon che mi aveva così tanto colpito quando ero un ragazzo quando vedevo questa via vicino alla scuola che frequentavo così lunga e importante in quella zona lì di Milano ebbene questo maresciallo che però è un francese diede un apporto decisivo alla vittoria francese a Magenta e questo è un quadro di un altro francese Horace Vernet ah ecco ci ricorda il nostro leader Mervin un'altra canzone sulla battaglia di Magenta che più o meno a questo testo sta per cominciare la battaglia di Magenta solo 300 pro di cavalieri ah 300 poi è un numero che ritorna più e più volte l'abbiamo già visto per esempio riguardo la spedizione di Sapri o riguardo alla battaglia delle Termopili in questo caso però l'abbiamo detto si tratta di una battaglia vittoriosa cioè è vero che anche i soldati piemontesi vanno incontro a ai nemici con più ardire con più coraggio rispetto al 1848 durante la prima guerra dell'indipendenza morivano poche decine di soldati certe volte nelle grandi battaglie qui invece arriveremo a centinaia e migliaia però sono battaglie vittoriose questa è una vignetta francese pubblicata durante la guerra che ci fa vedere il generale Giulai che taglia i suoi nemici a pezzi sì ma sulla carta perché poi invece nella realtà il generale Giulai come stiamo vedendo risulta sempre sconfitto un perdente e questo è Heinrich von Hess il generale austriaco più autorevole dopo la destituzione di Giulai infatti l'opinione pubblica austriaca nonché il governo nonché il nostro imperatore Francesco Giuseppe addossarono su Giulai la colpa di tutta quanta la sconfitta tutte quante le sconfitte che già si erano verificate in questa prima parte della seconda guerra di indipendenza e quindi in questo caso sapete come si fa quando si cambia l'allenatore no? si decise di destituire Giulai e di nominare a suo posto un altro generale comunque anche questo generale non riuscì a fare molto meglio del nostro Giulai che quindi tutto sommato ci risulta quasi simpatico per questo dovete sapere che nel frattempo circa 3.000 soldati erano comandati da Giuseppe Garibaldi il quale a differenza di quanto era avvenuto nel 48 quando Carlo Alberto aveva rifiutato il suo la sua proposta diciamo di venire in aiuto in soccorso delle truppe piemontesi invece in questo caso per via del connubio di cui abbiamo parlato prima era ben accetto e quindi l'unica cosa è che i piemontesi non se lo volevano troppo tra i piedi questo Giuseppe Garibaldi e quindi lo spedirono un po' a nord quindi gli diedero un mandato abbastanza generico ma cerca di tenere testa gli austriaci nelle province lombarde settentrionali vai verso Varese Como Lecco anche Bergamo e cerca di tenere loro testa tra l'altro i piemontesi speravano in questo modo anche di toglierselo di dosso perché sapevano che 3.000 uomini erano pochi e che gli austrici magari ne avevano molti di più di uomini il problema è che Giuseppe Garibaldi era talmente bravo che con i suoi 3.000 uomini riuscì a sconfiggere sempre i nemici austriaci anche quando si trovava di fronte a un numero maggiore o al doppio diciamo di soldati dall'altra parte Garibaldi si mostrò sempre efficiente al massimo e riuscì a vincere e quindi i nostri austriaci avevano una sorta di incubo in queste zone del nord della Lombardia cioè che Garibaldi sbucasse da una parte o dall'altra ed effettivamente era anche imprevedibile perché lui con i suoi cacciatori delle Alpi così si chiamavano allora i suoi soldati effettivamente scorazzò in queste zone da una parte all'altra senza mai essere né sconfitto e nemmeno raggiunto ecco dicevamo quindi che comunque a capo dei due eserciti che viaggiavano fianco a fianco l'uno all'altro l'esercito francese e l'esercito sabaudo quello però tradizionale regolare senza i cacciatori degli Alpi di Garibaldi che si trovavano ben più ben lontani insomma ben più a nord ebbene questi due sovrani il re Vittorio Emanuele II e il generale scusate l'imperatore Napoleone III viaggiavano a fianco a fianco l'uno all'altro mostrando apparentemente grande rispetto e stima reciproca in realtà appena potevano quando parlavano insieme con i loro consiglieri ne dicevano di cotte di crude l'uno dell'altro come potremmo testimoniare se noi avessimo qui i testi comunque ci sono che esistono se avete curiosità potete andare a cercarli di cosa scriveva ad esempio proprio Vittorio Emanuele su quello sbruffone insomma dell'imperatore Napoleone III sta di fatto comunque che dopo aver sconfitto più e più volte gli austriaci tra Piemonte e Lombardia gli austriaci ovviamente cosa fanno si ritirano sempre più verso est cercando di raggiungere il quadrilatero che undici anni prima era stato così provvidenziale per rintanare le truppe per riorganizzarsi e poi per vincere la prima guerra d'indipendenza effettivamente la stessa cosa identica avviene anche nel 1859 ma questa volta i franco-piemontesi sono decisamente avvantaggiati sia come numero sia come determinazione e quindi inseguono gli austriaci e riescono a raggiungerli nei pressi del lago di Garda a sud del lago di Garda infatti si trovano queste due zone e dove si verificano due battaglie in contemporanea tant'è vero che si parla spesso di queste due battaglie insieme la battaglia di Solferino e la battaglia di San Martino da una parte ci sono i francesi contro gli austriaci dall'altra ci sono gli italiani contro gli austriaci si tratta di una delle battaglie più sanguinose di questo periodo ecco il discorso che vi facevo rispetto alla prima guerra di indipendenza c'è un numero di morti straordinariamente superiore rispetto a quello che era avvenuto undici anni prima una battaglia cruenta una battaglia a fasi alterne non così semplice da vincere ma che poi alla fine fu vinta sia dagli italiani sia dai francesi e quindi due vittorie che poi possiamo però considerare una vittoria unica perché è una sorta di grande battaglia combattuta a distanza perché queste due località non erano così lontane fra di loro a una distanza relativamente breve che sancirono in un certo senso la vittoria definitiva delle truppe franco-piemontesi quindi della Francia del Piemonte in questa seconda guerra di indipendenza in questo caso però Cavour avrebbe voluto che si proseguisse visto che ormai avevano già sbaragliato gli avversari occorreva passare in Mincio andare nel Veneto e conquistare anche il Veneto non era questa però l'intenzione di Napoleone III il quale anche per non contravenire all'opinione pubblica francese che non era così favorevole a questa guerra si accontentò ma prima di parlare di questo vorrei fare aprire una parentesi relativa a questa battaglia di Solferino e San Martino si trovava proprio nei pressi di questa battaglia un commerciante diciamo un commerciante svizzero che assiste a questa battaglia e viene colpito soprattutto dalle condizioni dei soldati feriti in battaglia sono condizioni penose sono condizioni drammatiche perché loro non vengono assolutamente soccorsi ma sono lasciati a loro stessi e spesso quindi muoiono dopo atroci sofferenze perché dissanguati perdono la vita perché nessuno è andato lì a curarli decide quindi questo tale Henri Dunant di organizzare i primi soccorsi chiedendo assistenza agli abitanti dei paesi vicini lì a Solferino San Martino pagando personalmente tutto il necessario per la cura dei soldati ad esempio le tende per creare ospedali da campo il principio fondamentale della sua azione era quello di prestare assistenza a tutti i soldati feriti senza fare alcuna distinzione dei due schieramenti cioè immagina un'associazione un'organizzazione questa che poi verrà chiamata la croce rossa la croce rossa internazionale che non doveva curare solo i feriti di uno schieramento ma anche quelli dell'altro schieramento un'associazione autonoma indipendente nacque proprio lì in quel 24 giugno del 1859 cioè dopo la battaglia di Solferino e di San Martino addirittura ci furono 5.000 vittime abbiamo detto che si passa dalle decine poche poche vittime delle battaglie della prima guerra di indipendenza a centinaia e migliaia fino ad arrivare appunto a questo numero consistente di 5.000 vittime ma è comunque così tante come nelle battaglie napoleoniche infatti nelle battaglie di Napoleone buona parte lo zio di vittime e di morti ce n'erano molti di più però è importante sapere questo che nacque proprio in quel frangente la croce rossa internazionale svizzera di origine qui abbiamo l'incontro fra Napoleone III e Francesco Giuseppe presso Villa Franca l'11 luglio del 1859 non so se riuscite a vedere verso la parte destra del dipinto i due cavalli uno bruno e l'altro bianco di questi due sovrani che decidono di fare la pace di fare un trattato e attenzione si badi bene non ci sono piemontesi perché l'incontro infatti è tra francesi e austriaci i piemontesi non sono stati invitati a questo incontro il trattato di pace viene fatto senza i piemontesi questa cosa avrebbe potuto indignare Vittorio Emanuele II il quale però invece decise di accontentarsi anche lui infatti in questo trattato il trattato di Villa Franca armistizio di Villa Franca volevo dire si decise che la Lombardia effettivamente fosse assegnata al regno di Sardegna quindi ai piemontesi ma che il Veneto rimanesse austriaco e questo determinò ancora tanti tanti anni fino addirittura al 1866 in cui il Veneto il Veneto di Venezia Padova Vicenza Verona eccetera finalmente poi potesse essere annesso all'Italia che nel frattempo si era già unificata da anni per non parlare poi delle altre due Venezie cioè la Venezia Giulia quindi Trieste e la Venezia Tridentina quindi diciamo Trento perché bisognerà aspettare addirittura la prima guerra mondiale la fine della prima guerra mondiale perché Trento e Trieste possano diventare italiane questa cosa fece andare su tutte le furie Cavour infatti Cavour si dimise quando venne a sapere che il re aveva consentito a questo trattato di pace che c'era stato tra francesi e austriaci però la volta prossima quando parleremo di Garibaldi e dell'impresa dei Mille vedremo gli sviluppi assolutamente inaspettati che si ebbero nei mesi successivi questa è la suddivisione politica dell'Italia dell'impero austro-ungarico al termine della guerra della seconda guerra dell'indipendenza noterete che comunque oltre alla Lombardia in questa cartina e anche nella successiva qui per esempio in verde oltre alla Lombardia dicevamo appare che ci sono altre regioni che vengono annesse al regno di Sardegna di questo parleremo più diffusamente la volta prossima in buona sostanza si tratta di regioni che si sono auto-affrancate da alcuni signori sovrani regnanti considerati inetti o non sufficientemente rappresentanti del popolo quindi da sole hanno chiesto al regno di Sardegna di essere amnesse al regno di Sardegna cioè di essere amnesse al regno dei Savoia questa cosa però da un punto di vista internazionale viene un attimo sospesa perché non ci sono stati europei che vedono all'inizio di buon occhio questo tipo di annessione bisognerà aspettare quello che avviene più o meno nell'anno seguente cioè nel 1860 di cui parleremo la volta prossima che avviene che avviene che avviene